Ciao a tutti sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. La nostra amata conduttrice Mara Venier sembra che abbia avuto dei problemi con il proprio figlio. Ecco la verità sul loro rapporto, la tanto amata conduttrice di Domenica in nasconde una storia particolare. Il rapporto con il figlio ha vissuto dei momenti davvero difficili. È risaputo che Mara Venier è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. La 70enne Veneta ormai da anni intrattiene il pubblico con tutta la sua maestria, che ha accumulato nel corso di molti anni di esperienza. Prima come attrice, in seguito come conduttrice, Mara Venier ha svolto diversi ruoli nel corso della sua carriera che l'hanno fatta diventare celebre e raggiungere la posizione di cui gode oggi. Sicuramente zia Mara è entrata nel cuore del pubblico grazie alla sua personalità. Una donna con un carattere sempre a modo, costantemente in grado di mettere a proprio agio gli ospiti nelle sue trasmissioni. Insomma Mara Venier sicuramente riesce a trasmettere molta serenità, non solo al pubblico da casa, ma anche ai personaggi che si trovano a sedere nel suo salotto. Cosa è accaduto tra Mara Venier e il figlio, a testimonianza di ciò c'è proprio la diretta esperienza di Michele Bravi. Artista che, dopo aver attraversato un momento difficile, ha deciso di raccontarsi proprio a domenica in data la grande umanità di zia Mara. Proprio per questo motivo la conduttrice di Rai 1 ha da anni ricevuto l'appellativo di zia. La conduttrice riesce sempre a trasformare l'ambiente televisivo in una grande famiglia, portando così un'atmosfera di grande confidenza e tranquillità. Considerando tutto questo, è difficile capire come Mara Veniera abbia avuto una situazione difficile nel rapporto proprio con suo figlio Paolo. Abbiamo letto sul web di come, tra di loro, sia avvenuto qualche cosa di particolare. Paolo è il secondo figlio della conduttrice che ha avuto dalla relazione con l'attore Pier Paolo Capponi. Dopo che i due si sono separati, il ragazzo è andata a vivere insieme a suo padre. Non si hanno molte notizie del figlio di Mara, in quanto è sempre stato un ragazzo estraneo alle telecamere. Tuttavia sappiamo che, proprio a causa di questa separazione, il rapporto tra Paolo e Mara non è mai stato dei migliori. Il mio rapporto con lui non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita. L'arrivo del mio nipotino ha fatto da collante, è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un'unica grande famiglia. La rivelazione di Mara veniera ai microfoni di chi, rivela come poi sia tornato in sereno. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.